Paola Caruso ha una nuova fiamma, baci notturni con Edoardo Cicchinelli tenerezze ed effusioni per la ex naufraga oggi opionista da Barbara D'Urso. E dire che è inizia per il ruolo da single di Temptation Island VIP. Paola Caruso, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi in questi giorni presenza fissa nei programmi di Barbara D'Urso, sembra aver trovato un nuovo amore. Sono stati paparazzi di Novella 2000 a beccare l'indimenticata bonus di Avanti un altro in dolce compagnia, l'uomo con cui scambia tenerezze e baci appassionati e il compositore Edoardo Cicchinelli. Dopo il momento di effusioni sotto casa del ragazzo, lui è salito e lei è tornata a casa da sola. Gli amori di Paola Caruso Negli ultimi anni, la vita sentimentale della Caruso è stata piuttosto turbolenta. Dopo una storia con Stefano Bonolis, figlio di Paolo, e la popolarità raggiunta grazie ad Avanti un altro e l'Isola dei Famosi ha avuto una breve relazione con l'ex tronista Lucas Peracchi. Ai tempi del grande fratello Vip, qualche mese fa, si dichiarò cotta di Luca Onestini, che per sua sfortuna ha poi trovato l'amore in Ivana Marazzova. Durante la partecipazione a Supervivientes, l'Isola dei Famosi Spagnola, Paola ha inoltre avuto uno sfortunato flirt con la star locale Ivan González. Ha poi rifiutato di partecipare alla versione iberica di Uomini e Donne proprio per la presenza in trasmissione di González. Non farà Temptation Island Vip? Naturalmente, se la frequentazione con Cicchinelli dovesse continuare, la Caruso non potrà vestire i panni della single tentatrice a Temptation Island Vip. Il suo nome è emerso nelle prime anticipazioni sul programma che dovrebbe andare in onda in estate, dopo la versione classica. Paola ha fatto discutere, recentemente per una dichiarazione rilasciata domenica live, in cui ha annunciato la decisione di farsi asportare alcune costole per assottigliare il giro vita.